Buongiorno Sebbiascun E' deniscire 2 volte. E' la volta dove non risponde il testo, ma si vede un'attesa e inizia io Luca. Il testo è stato molto molto difficile quando sono passati a testo e a testo della mentalità l'attesa degli attenti da un po' divolta ovunque nessuno, però stai in un'esempio di segitto si tratta di specifico in maniera di uno più per attesa rientra, lui abbiamo anche un po' di spagna che interessa migliore, che vale la prevenzione e non è complicata, ma anche per spingere una spagnola si tratta di sottotitoli, non è normale e questo non è semplice. e adesso ci sono informazioni che ci sono dei problemi perché non so se ti esagerare ma non so se ti esagerare e quindi io non so se ti esagerare per la mia vita per il mio caso e se ti esagerare e se ti esagerare e se ti esagerare ovvero voi che ci esagerare La mia cosa non è importante, le dimenticazione non è importante, e le dimenticazione delle donne, trova un po' di casa. Questa è la sua e la sua e la sua lingua è in grado, e la sua lingua è in grado, e la sua lingua è in grado, la sua lingua è in grado, e sui due denti una volta consiglio di angolo di Pyrrha e consiglio di entrare pratica le serite nulla, se le conturne ad half a WDF non ho farata di aver, che per WDF non ho farata le rettowers in compagno, insomma, ho preso ma non ho mai confuso io e accoprire il fresh rule. Anche se non è un problema, non so ne suggerisco, ma non so ne suggerisco, non so ne suggerisco. Ora abbiamo tanti, ma non so ne suggerisco. Questa è un problema, se non è un problema. Scusate, non so ne suggerisco. alla prossima che non ti mescione, mi ha spietato, mi ha spietato, non sei un'iglioso, ma proprio mi ha fatto solo un ho scelto, non è stato un po' di passare, non sono solo una persona che mi ha messo, non sono solo una persona, ma sempre di passare. Allora, me ne si sento un po' di poter rasgliare, non sono solo un po' di più, e mi sto lasciando un po' di piacere di rinni, ma non c'èставmo un po' di prosti. Sono le mie, mi ha detto che, tutto questo, ma sembriamo rastابrando, non sono anche una cosa. Mi salutiamo tanto, non so, se non ho mai detto, un anno non è più tranquillo, poi per un'imente giro, il giro, la mia gix, la forma forte, la PC, 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 la PC. qui e la stelle da vivo con la rocella di calcio la stella nella ricordava la sostanza di questa cosa cosa chiesa è un fan ali com'è il tre una donna in Tunisia compresa quello che ha stato molto fortuna e mi è finito in una Boba perché non è così poi c'è il fatto 3... che ci sono stati qui... finì le ordine delle teore e va sorgare le tue vanno e ho fatto un Bello e mi sento a tutti i seti e adesso ci sono realmente e mi sento come si sono un bambino un bambino se mi ha visto si eccovaz in ilusione ma si il tino è stato un po' e e due No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.